buongiorno a tutti allora dopo il campionato francese andiamo in germania che il gusto ci guadagna era l'allemagna il gusto ci guadagna ma facciamo germania il gusto ci guadagna allora 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 vediamo come sono andate le partite venerdì sera come al solito la regola dell'under due e mezzo è rimasta però c'è il gol signori miei c'è il gol il gol salva tutto la regola dell'under due e mezzo come quasi ogni venerdì è rimasta perché la partita è terminata 1 a 1 è terminata 1 a 1 anche quei cartellini rossi il primo a prendere il cartellino rosso è stato il giocatore del Werder Bremer al 73esimo e all'89esimo giustamente anche quello dell'Eintracht ha preso il cartellino rosso il Werder Bremer ha passato in vantaggio della ripresa dopo pochi minuti poi il tempo di rimanere in 10 l'Eintracht ne ha approfittato per pareggiare e poi proprio il giocatore che aveva pareggiato ha pensato bene di farsi espellere all'89esimo e quindi i 10 contro 10 un punto per uno non fa male a nessuno anche se probabilmente fa molto male all'Eintracht e adesso vede la sua zona europea in grave dangerous poi vedremo la classifica e questa è una partita che avrebbe dovuto vincere il Friburgo però fa peggio perché perde in casa 4 a 1 con il Lipsia il Mainz non senza difficoltà nonostante il punteggio vince 4 a 0 contro il Danstad e credo che questo sia il De Profundi totale per la squadra neopromossa era la sfida tra la penultima e l'ultima la penultima sta vinto 4 a 0 credo che il Danstad è meglio che cominci a preparare la prossima stagione di Bundesliga 2 per provare poi a ritornare in Bundesliga il Mainz con questa vittoria è ragazzi miei si rifà sotto il Colonia però risponde se il Mainz chiama il Colonia risponde e in rimonta batte 2 a 1 il Bocum perché il Bocum era passato in vantaggio anche questa è una sfida tra la terz'ultima e la quart'ultima se non erro il Bocum era passato in vantaggio all'inizio del secondo tempo era lì bello felice come una Pasqua e poi ahimè le gare finiscono quando Armitro fischia finché Armitro non fischia la gara non è finita sono addormentati e tra il novantesimo e il novantaduesimo hanno preso due pappine e ciao Bocum ciao Bocum e adesso il Colonia gode il Colonia gode e il Danstad soffre cioè il Danstad il Mainz soffre perché ha detto vai che aggancio il Colonia no hanno vinto aiuto adesso quando li riprendiamo alla Fantozzi come temevo il Bayern Monaco dorme ma in vantaggio a 2 a 0 in casa dell'Aidenham poi si addormentano avranno fatto turnover cavolo ne so cosa è successo l'Aidenham ci hai lasciato vivo e ci hai lasciati vivi e noi ne approfittiamo ribaltone clamoroso l'Aidenham batte 3 a 2 il Bayern Monaco e credo che a questo punto con questa bella vittoria da libidine questo bello scalpo che si prende da me non posso prenderlo perché non ho più capelli ma il Bayern Monaco si strappa ti strappa lo scalpo e quindi strappato lo scalpo del Bayern Monaco l'Aidenham si mette in una posizione tranquillissima ormai di classifica credo che difficilmente vedremo l'Aiden in Bundesliga 2 l'anno prossimo tifosi dell'Aidenham toccatevi i testi non vorrei avervela gufata però dopo vedremo la classifica e penso che l'Aidenham può dormire sonni tranquilli il Leverkusen va a vincere in casa dell'Union Berlino ma vince solo 1 a 0 e tra l'altro l'Union Berlino rimane pure in 10 alla fine del primo tempo quindi rimangono in 10 il Leverkusen passa in vantaggio sul rigore alla fine del primo tempo ha tutta la ripresa con un uomo in più per maramaldeggiare eccetera invece non lo fa e la partita termina schifosamente solo 1 a 0 poi lo seguiamo perché il Borussia Dortmund perde in casa con lo Stoccarda la sfida diretta tra la quarta contro la terza quindi lo Stoccarda attenzione perché lo Stoccarda adesso con questa vittoria il Bayern che ha perso potrebbe anche andare a insidiare il secondo posto del Bayern ragazzi miei sono soldi buttati per il Bayern Monaco perché sapete benissimo che andare in Champions ci vanno le prime 4 però se ci vai come campione hai sei testa di serie prendi un botto di soldi eccetera ci vai come secondo prendi un botto di soldi ci vai come terzo prendi un pochettino meno ci vai come quarto prendi ancora meno quindi per cui arrivare terzi penso sia 5 o 6 milioni che ballano dal secondo al terzo posto 20 contro 25 più o meno poi Hoffenheim Augsburg 3 a 1 era una sfida tra due squadre pensavo potessero fare un biscottone invece l'Hoffenheim se ne è guardato bene ha detto no no noi vinciamo ce ne andiamo ci allontaniamo ulteriormente dalla zona pericolo poi se magari qualcuno si addormenta e ci vuole andare lasciare andare in Conference non ci dispiace e concludiamo ragazzi miei con la vittoria in rimonta del Borussia Mönchengladbach sul Wolfsburg per 3 a 1 perché il Wolfsburg era passato in vantaggio e ero lì che aspettavo no perché avevo gol gol nelle due gare del campionato tedesco della domenica dico il Wolfsburg segna subito dico beh un gollettino il Borussia lo farà vince il primo tempo 1 a 0 ho detto un madonna adesso fanno poi dopo un attimo 1 a 1 1 a 2 1 a 3 la miseria comunque il Borussia Mönchengladbach una volta tanto si è risvegliato e ha beffato i lupacchiotti andiamo a vedere la classifica perché a parte il Bayer Leverkusen che ormai felicità è vincere lo Scudetto che non lo vinco da un secolo e mezzo non so quando ha vinto lo Scudetto il Bayer Leverkusen l'ultima volta ma credo che devi andare indietro di un bel po' comunque Leverkusen 76 mancano 6 giornate alla fine perché sono solo 34 ricordiamo che in Germania sono un campionato a 18 squadre quindi domenica prossima Leverkusen potrebbe già festeggiare lo Scudetto perché avendo 16 punti sul Bayer Monaco ce ne sono disponibili ancora 18 se vince resterebbe comunque più 16 a 5 giornate dalla fine quindi Leverkusen festeggerebbe già lo Scudetto Libide Sabi Alonso o Savi 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 Gongola 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 Bayer Monaco e Stoccarda 60 punti ve l'ho detto lo Stoccarda ha agganciato il Bayer Monaco che se non si dà una mossa rischia anche il secondo posto Il Lizia è a 53 ed è stato e ha agganciato il Borussia ad Orbul a pari punti e quindi anche qua c'è una bella lotta per lotta secondo terzo posto lotta terzo quarto quinto posto tra Lizia e Borussia ad Orbul che sono appaiati a 53 punti ma il Lizia ha una differenza reti stupendamente migliore del Borussia ad Orbul addirittura 9 gol in più per cui per ora Lizia è quarto e il Borussia ad Orbul svrag se lo prende in quel posto Lai tra Francoforte tranquillo nonostante la sconfitta perché comunque resta con sei punti di vantaggio su Asburg Offenheim e Friburgo quindi Offenheim e Ausburg e Friburgo si giocano il settimo posto che dovrebbe voler dire Conference perché sapete benissimo Leverkusen fa la finale di Coppa con una squadra di Serie B che tra l'altro sta lottando per salvarsi quindi penso che ce l'abbia già in tasca quindi Leverkusen double un bel double campionato Coppa non male in decima posizione troviamo Lajden 33 vi ho detto vediamo se può sognare ve lo dico dopo Leverkusen 33 in decima posizione Borussia Mönchengblabach e Werder Bremen a 31 punti quindi il Borussia con la vittoria sul Werder lo aggancia al 31 e il Werder Bremen quindi si è giocato con le ultime poche residue chance di agganciare il treno per un posto in Europa a 29 troviamo l'Union Berlino a 28 il Wolfsburg a 26 il Bocum a 23 il Mainz che sorpassa il Colonia che è a 22 e ultimo il Dauster da 14 quindi il Mainz avendo vinto il Mainz avendo vinto il Colonia non è il Mainz che piange aiuto il Colonia no è il Colonia che fa cavolo ho battuto il Bocum che mi sta davanti eccetera eccetera però il ragazzino il Mainz aveva un match point un rigore a porta vuota giocava con l'ultima in classifica ormai rassegnata quindi e la lotta continua quindi per quello vi dicevo Leiden è a più 10 sulla terz'ultima mancano ci sono ancora disponibili 16 punti io credo che nel Mainz nel Colonia riusciranno a fare 10 o 11 punti e ad andare a prendere Leidenheim quindi anche se Leidenheim non dovesse vincere più dovesse rimanere a 33 credo che si salverebbe comunque perché Colonia e Mainz fanno fatica a fare punti riescono giusto giusto con le dirette concorrenti e basta tra l'altro con fatica il Colonia ha battuto il Bocum ha vinto al 90esimo al 92esimo ribaltando la partita detto questo ragazzoli è sfida tra Colonia e Mainz per chi delle due farà lo spareggio naturalmente i tifosi del Borussia si augurano che sia il Colonia a fare lo spareggio il Mainz ad andare in Serie B visto che l'anno scorso gli hanno fatto perdere lo scudetto gli altri penso che siano abbastanza win the best ecco per intenderci non penso che ci siano non so se ci sono delle squadre che odiano il Colonia o delle squadre che odiano il Mainz a parte il Borussia che ha ben donde dall'odiare il Mainz visto quello che è successo l'anno scorso andiamo a vedere la prossima giornata che cosa ci regalerà ventinovesima questa era la ventottesima ventinovesima giornata ne ho detto ne mancano sei abbiamo Ausburg Union Berlino Bayer Monaco Colonia Mainz Offenheim Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Bokum Heidenheim Lipsia Wolfsburg Stuttgart Eintracht Danstad Friburgo e Leverkusen Werder Brema allora non ci sono partite di cartello interessante la sfida tra i due Borussia ma ahimè la differenza di classifica è importante per quanto riguarda la lotta salvezza il Bokum a Leidenheim in casa che non è sinceramente semplicissima il Mainz Offenheim che si sta giocando l'Europa quindi non è semplicissima e il povero Colonia va a giocare col Bayer Monaco che però è riduce dalla partita di Champions potrebbe giocare scassiatello magari un punticino lo riesce di Riffo di Raffa portarlo a casa però il Bayer Monaco deve sempre stare attento a vedere cosa fa lo Stokkarda Stokkarda che non ha una partita semplice perché affronta l'Eintracht che anche lui si sta giocando il posticino in Europa League barra conference però vorrebbe magari stare in Europa League giornata interessante l'unica che forse forse ha il turno abbastanza tranquillo è l'Everkusen con un Werner Bremer che non ha granché da chiedere alla classifica dall'alto dei suoi 31 punti più 8 sulla terza ultima quindi potrebbe essere già festa alle Everkusen e giù di birra che è un piacere tra l'altro giocano domenica alle 17.30 perfetto alle 19 tutti a fare l'Ottoberfest in anticipo per festeggiare lo scudetto delle Everkusen tifosi del Bayer toccatevi che non vorrei che magari il Werner Bremer vi rovina la festicciola anticipata e dopo dovete festeggiare la domenica successiva a meno che non ve lo regala direttamente il Bayer Monaco pareggiando perché a quel punto iuhuhuhu iuhuhuhu e viva vabbè ragazzoli io vi saluto vi ringrazio adesso vado a fare il campionato inglese che è bello corposo bello libididoso bello tosto ciao us